Lo scorso 28 novembre, con una storica presa di posizione, l'Aula di Strasburgo ha proclamato l'emergenza climatica e ambientale in Europa e nel mondo. È la prima volta che un continente intero chieda a gran voce che l'Unione Europea si impegna alla conferenza delle Nazioni Unite COP25 per una riduzione a zero delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. E proprio in occasione dell'apertura dei lavori di COP25 che Alfonso Pecoraro Scania e Jimmy Ghione rilanciano la loro petizione affinché anche il governo italiano dichiari lo stato di emergenza climatica. Oltre 100.000 cittadini hanno già firmato la petizione lanciata da me e da Jimmy Ghione su change.org. Il Consiglio Comune di Roma ha già deciso all'unanimità di votare l'emergenza climatica. Proprio la settimana scorsa anche il Parlamento Europeo ha votato l'emergenza climatica e io chiedo, francamente chiediamo insieme a tutti i parlamentari di dare il voto il più ampio possibile. Ovviamente qui ci sono con me sia Rossella Moroni di Leo sia gli amici Riccardo, Paola dei 5 Stelle, parliamo sempre di deputati, nonché il mitico Luca, uno dei portavoci di Friday for Future di Roma. Quindi l'obiettivo nostro è ottenere una cosa semplice, si inizia a parlare di crisi climatiche e non più solo di cambiamento climatico perché la situazione anche in Italia è diventata sempre peggio e come io ho detto più volte l'Italia rischia di diventare sempre più la Florida del Mediterraneo. Così come la Florida nel Mar dei Caraibi si becca tutte le tempeste tropicali, noi rischiamo di diventare un luogo che avrà molti problemi. Però anche la Florida ha problemi ma è anche una bella zona, quindi cerchiamo di migliorare la nostra qualità. Sì, anche l'Italia è una bella zona e quindi non vogliamo i tornadi ovviamente, quindi diamoci da fare, ci sono i deputati, quindi sono i rappresentanti dello Stato qua con noi e già ci hanno promesso in Camera Caritatis, ce l'hanno detto ma sicuramente faranno di tutto perché se non cambia qualcosa veramente rischiamo le inondazioni, questo non deve assolutamente succedere insomma. Ma nei cassetti del Parlamento italiano c'è già una mozione presentata in origine dall'Ostella Muroni a maggio e oggi integrata e firmata da tutta la maggioranza che impegna il Governo ad adottare iniziative, anche normative, per riconoscere lo stato di emergenza ambientale e climatica nel nostro Paese. Noi siamo già in piena emergenza climatica, è ora che anche il Parlamento lo sancisca come ha fatto l'Unione Europea. Il nostro Paese è particolarmente fragile, ha bisogno di un atto da parte del Parlamento che dichiari che da oggi e soprattutto per i prossimi 20 anni chiunque vada al Governo tenga conto del fatto che il nostro è un Paese fragile in emergenza climatica e che quindi le politiche che vanno messe in campo sono proprio di contrasto al mutamento climatico. Siamo la generazione che può decidere davvero le sorti del pianeta, noi non abbiamo più tempo quindi o vinciamo e invertiamo la rotta per consegnare appunto alle generazioni future questo pianeta o se no davvero abbiamo una responsabilità enorme di continuare su questa strada che porta e ha portato a quella che è davvero un'emergenza climatica. È arrivato il momento di chiamare le cose per il loro nome, quello a cui abbiamo assistito questo periodo non è maltempo ma è conseguenza dei cambiamenti climatici e quindi bisogna cominciare a agire e la dichiarazione di emergenza climatica deve essere il primo passo per un vero cambiamento perché ne abbiamo bisogno e adesso. Ovviamente tutti possono continuare a firmare su change.org e io auspico francamente, auspichiamo tutti che il Parlamento proprio in queste settimane prima di chiudere per la pausa di Natale possa votare almeno alla Camera ovviamente il provvedimento visto che è anche in corso la conferenza mondiale sul clima a Madrid. Quindi si faccia uno sforzo e possibilmente anche magari quelli dell'opposizione decidano di votarlo questo tema. Poi ecco il regalo di Natale però veramente questa è una cosa che deve essere vicina veramente a tutti al di là degli schieramenti politici, cioè stiamo parlando di clima, stiamo parlando del nostro pianeta, stiamo parlando della nostra vita.